salve a tutti dal vostro erba gatta games oggi ci ritroviamo qui per sviluppare un geolocalizzatore di numeri telefonici sia fissi che immobili perdonate la voce un po nasale ma sono estremamente raffreddato altra cosa importante questa è la prima parte del video per avere la seconda parte del video mi raccomando mettiamo almeno 100 mi piace spollicciamo su questo canale divulghiamo questo canale facciamo crescere il canale stesso che cosa vedremo in questa prima parte vedremo come dato un numero di telefono qualsiasi che sia fisso mobile italiano straniero eccetera 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 potremo andare a trovare la posizione del numero ovvero la nazione in cui questo numero è stato registrato si trova il nome dell'operatore laddove è possibile laddove è registrato e l'eventuale fuso orario laddove effettivamente non dovesse darci informazioni sulla nazionalità del numero di telefono tramite il fuso orario riusciremo comunque a scoprire lo stesso dove si trova questo numero di telefono nella seconda parte invece andremo inserire una mappa dove poter vedere esattamente dove si trova quel numero di telefono quindi se volete poi avere anche la seconda parte con la mappa per vedere dove si trova il numero di telefono mettete 100 mi piace mi raccomando ragazzi l'aggiungimento del 100 mi piace metterò e caricherò la seconda parte del video quella con la mappa allora per fare tutto questo che cosa andremo utilizzare oltre il nostro caro linguaggio di programmazione python utilizzeremo una libreria che si chiama phone numbers per installare questa libreria fate come al solito utilizzate il comando pip quindi pip install phone numbers adesso cercherò di scriverlo in sovrimpressione qui sotto al mio faccione e subito subito iniziamo a crearci un file di python come facciamo allora clicchiamo tasto destro almeno io sto utilizzando pi charm poi voi utilizzate quello che più vi è comodo come editor di testo per scrivere codice nuovo file python lo chiamerò numeri telefonici numeri telefonici così qua dentro ci metteremo dei numeri che andremo a sperimentare per vedere come funzioni programma e se funzioni programma che andremo a scrivere poi voi siete liberi di mettere tutti i numeri che volete o anche modificare i programmi in modo tale da fareare non so una finestrella dove inserisci qui il tuo numero e poi sotto vi dai risultati io adesso vi mostro il codice nudo e crudo per capire come funziona questa libreria ok e inseriamoci subito dei numeri telefonici sono dei numeri che ho trovato via internet quindi numeri casuali ma che mi servivano per avere un'idea di quello che potremmo andare a estrapolare tramite il nostro il nostro programma quindi questi numeri sono due numeri inglesi un numero rumenio un numero italiano ho preso questi numeri così in modo randomico da modo da poter vedere i risultati alla fine iniziamo a scrivere questi numeri quindi numero uguale lo scriveremo nel formato a noi più consono quello con il più il prefisso internazionale il numero a seguire questo ricordiamocelo perché in base a come inseriamo i numeri dovremmo utilizzare dopo con la libreria phone numbers delle diciture differenti noi comunque in italia siamo abituati a utilizzare questo formato e questo formato andiamo ad utilizzare quindi aperte virgolette iniziamo inserire questo numero più 44 quindi prefisso inglese 0 79 70 83 54 88 e un numero poi inseriamo un secondo numero numero 1 uguale apriamo virgolette più 44 0 20 78 28 0 7 4 7 poi numero numero 2 uguale apriamo virgolette più 40 72 12 34 5 6 7 ho messo il puntino invece del più e infine il numero 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 3 uguale apriamo virgolette più 39 il nostro prefisso internazionale 0 35 23 71 36 ok fatto questo ci creiamo invece il vero e proprio file per scrivere il nostro codice python quindi sempre clic destro nuovo file python che chiameremo main ok main.py salviamo sempre e di frequente tutto ciò che facciamo per per evitare ogni volta di magari perdere il nostro lavoro e iniziamo a importare la libreria appunto phone numbers ricordatevi di installarla pip install phone numbers altrimenti il codice non vi funzionerà quindi import phone numbers e poi dobbiamo tirarci dalla nostra dal nostro file numeri telefonici i numeri appunto che dovremmo andare a fare analizzare quindi from numeri telefonici i file che abbiamo creato noi dovremmo importare import numero in questo caso giusto numero 1 cioè il numero poi sceglieremo noi dopo modificando 1 2 3 ricambiandogli il nome che numero dovremmo andare ad analizzare dopodiché iniziamo a trovare che cosa la geolocalizzazione ovvero in che paese si trova questo numero di telefono quindi from phone numbers dalla libreria import geocoder e adesso andiamo a trovare appunto la posizione quindi creiamo la variabile che dovrà contenere la posizione quindi posizione numero sarà uguale a che cosa a phone numbers punto parse di che cosa appunto del numero che abbiamo inserito dentro quel file formattato in che modo tramite il sistema che utilizziamo noi ovvero quello del prefisso con il più numero prefisso internazionale prefisso locale numero di telefono come viene identificato con gb tutto scritto in maiuscolo poi ovviamente nella libreria phone numbers se andate a cercare tramite google trovate anche gli altri metodi per poter riconoscere i numeri in base alla formattazione non so quella americana o altri tipi di formattazioni che possono esserci nel nostro caso ci interessa la nostra formattazione ed è gb vogliamo stampare il risultato print di che cosa di geocoder punto description for number di che cosa appunto di posizione numero in che lingua lo vogliamo qui possiamo scegliere la lingua con cui ci deve essere scritto il testo in questo caso lo vogliamo in italiano e quindi specifichiamo it in formato minuscolo è perfetto è già così abbiamo creato una prima parte di codice dove ci permetterà di poter vedere la posizione di questo numero di telefono proviamo già ad avviare il tutto però devo installare ovviamente il la libreria phone numbers quindi pip install phone numbers ok come potete vedere sta facendo l'installazione ok e l'abbiamo installato proviamo a ad avviare il nostro programma ed ecco qui che cosa troviamo troviamo che questo numero fa parte del regno unito è registrato nel regno unito infatti noi sapevamo che quel primo numero era un numero in realtà di una pizzeria il ristorante del regno unito ecco sappiamo che è registrato nel regno unito e quindi ce l'ha dato adesso vogliamo sapere il nome dell'operatore di questo numero quindi che cosa facciamo andiamo a capo sempre tramite la nostra libreria phone numbers from phone numbers importiamo questa volta che cosa gli operatori quindi import carrier adesso ci servirà quindi una variabile che conterrà il nome dell'operatore operatore uguale phone numbers punto parse sempre per estrapolare il nostro numero di telefono numero in questo caso sempre gli dobbiamo dire di che tipo di formattazione numero stiamo facendo ricerca e per quanto riguarda il carrier dobbiamo utilizzare la voce RO per questo nostro formato di numeri quindi RO in formato maiuscolo e andiamo a stampare il risultato appunto della nostra ricerca quindi print carrier punto name for number di che cosa di operatore sempre in che formato lo vogliamo italiano ok eseguiamo il nostro file vediamo che succede ecco qui ci dice che il numero è sempre quello famoso della pizzeria è registrato nel regno unito e l'operatore della compagnia telefonica è la orange ok adesso che altro vogliamo sapere mettiamo il caso che questo numero telefonico non abbia associato una nazione in cui si in cui è stato registrato ma che comunque vogliamo sapere dove si trova può succedere questo come possiamo risalire comunque alla posizione geografica di questo numero tramite il fuso orario facciamo una geograficazione sul fuso orario ovvero sul porzione in cui si dovrebbe trovare questo numero di telefono come si fa a fare questa cosa andiamo sotto scriviamo sempre from phone numbers import time zone e un di più in realtà noi già ce l'abbiamo il risultato della nazione ma vogliamo un qualcosina in più magari per quali motivo perché potrebbe anche essere che abbiamo ritrovato un numero americano lui ci dice stati uniti ma i stati uniti hanno diversi fuso orari e tramite questo riusciamo a centrare esattamente in che zona in quale stato si trova quel numero di telefono quindi anche qui creiamo la variabile fuso orario uguale phone numbers punto parse ormai sappiamo come si fa sempre di numero e questa volta riutilizziamo il formato gb gb sempre in maiuscolo print time zone punto time zone for number di che cosa di fuso orario a posto avviamo il nostro programma vediamo i risultati ed ecco che abbiamo regno unito operatore orange e esattamente si trova sul fuso orario europeo di garnsey l'isola di main jersey e londra quindi sappiamo anche esattamente in quale parte dell'inghilterra va a ricadere quindi sul fuso orario di londra vabbè londra ha un fuso orario sole quindi li rimane benissimo facciamo una prova con un altro numero visto che ce l'eravamo salvati vediamo il secondo numero di telefono quindi qua invertiamo qua scriviamo uno e togliamo l'uno a questi in modo tale da andare adesso a visualizzare questo secondo numero inglese ritorniamo sul nostro mine eseguiamo il nostro codice ed ecco qui che lui ci dice sempre che questo numero si trova a londra confuso orario di londra ma ecco qui non ha un operatore visibile e quindi effettivamente questo numero non era stato registrato con un operatore riconducibile in questo modo ovviamente vi ricordo con la seconda parte di questo video raggiungimento decento mi piace quindi diffondete il video vi mostro invece come vedere esattamente sulla mappa dove si trova questo numero facciamo un altro tentativo con quest'altro numero rumeno quindi qua mettiamo 2 e qui togliamo il numeretto così avere come variabile numero questa qui avviamo ed ecco che ci dice che questo numero si trova in Romania operatore Vodafone sul fuso orario di Bucharest infine proviamo quest'altro ultimo numero che era quello italiano quindi cancelliamo qui così da avere oppla ho premuto troppe cose così da avere come ultimo numero questo italiano avviamo il tutto e lui ci dice che è un numero che si trova a Bergamo anche qui non c'è un operatore telefonico registrato questo è un numero di telefonia fissa ed ecco che è stato il fuso orario appunto di Roma perché ovviamente è in Italia e lo sapevamo però come vi dicevo se magari abbiamo degli stati non so Russia Stati Uniti Australia che comunque hanno più fuso orari all'interno del proprio paese ci può essere estremamente comodo ok ragazzi questo è tutto per oggi mi aspetto i vostri commenti qui sotto mi raccomando iscrivetevi al canale un bel mi piace dobbiamo raggiungere 100 per la seconda parte del video con tanto di mappa e arrivederci a tutti dal vostro Erbagatta Games per la seconda parte